Questa testimonianza viene da Duccio Cavalieri, professore di microbiologia che mi avete sentito parlare di microorganismi e evoluzione all'ultimo Festival di Camogli. E oggi, come direbbero i Clash, affrontiamo praticamente un problema che è quello... Ossia, should I stay or should I go? Ed è uno dei punti chiave, nel senso che tutti ci dicono che dobbiamo stare a casa e che questa effettivamente è l'unica strategia di contenimento possibile. Il punto è che è vero che questa strategia è una strategia importante, ma poiché chiediamo a tutti i cittadini italiani un enorme sacrificio, io vorrei che per ridurre la limitazione alla libertà personale al minimo possibile cominciassimo a portare in campo veramente tutte le forze di cui il Paese dispone, anche in termini di scienza. Voglio far notare che in questo momento moltissimi laboratori universitari con grandissime potenzialità per il trattamento e sia per l'identificazione degli individui portatori di questo virus che anche i portatori sani. In questo momento noi non stiamo utilizzando l'enorme potenziale che moltissimi laboratori italiani hanno. Gli scienziati non devono stare a casa. Gli scienziati che sono in grado di portare un contributo in termini di analisi, di ricerca e di proporre nuove terapie devono stare in laboratorio e lavorare più di prima. Quello che voglio dirvi da microbiologo e da scienziato è che è come se in quella che abbiamo dichiarato una guerra decidessimo di tenere le truppe speciali, le special forces, chiuse in caserma e lasciassimo a farsi massacrare la fanteria che sono i nostri medici in prima linea. Quello che vi chiedo è portiamo tutte le energie del paese al lavoro per migliorare questa situazione. Questo virus è una entità molto particolare. A ponte fra vivente e non vivente vive soltanto nell'organismo che attacca. Fino ad oggi la trasmissione individuo-individuo è stata il paradigma principe per la trasmissione virale. Questo virus è particolarmente insidioso perché oltre a passare da individuo-individuo riesce a restare vivo a lungo, anche giorni, sulle superfici inanimate che possono funzionare dal mezzo di contagio. Quindi, per la prima volta, anche il monitoraggio ambientale di questo virus diventa importante. E questo lo possiamo risolvere soltanto se tutti noi, inclusi tutti i ricercatori italiani, si mettono a lavorare e focalizzare le loro attività su questa grandissima emergenza. La Corea, lo Stato che forse ha contenuto in modo sicuramente invasivo, ma molto rapido, l'infezione, ha utilizzato una strategia interessantissima, ha requisito tutte le realtà in PCR, tutti gli strumenti utilizzati nel test del Covid e ha messo tutti gli studi scienziati che sapevano usarle in un unico grande stabilimento per mappare e analizzare prima possibile la percentuale di popolazione potenzialmente pericolosa. Una volta noti quali erano i portatori, è andata immediatamente a identificare i loro contatti e a bloccare questi. Questa strategia noi possiamo farla, possiamo farla. Abbiamo conoscenze e strumenti, tante quante ne hanno i coreani, quindi questa è forse una delle prime azioni che dovremmo fare. Ma l'altra, e forse ancora più importante, è quella che secondo me è obbligata, ossia capire le dinamiche e il cambiamento di questo sceppo, mappare il movimento di questo sceppo e la sua evoluzione attraverso l'Europa. Il mio lavoro ormai da 20 anni è quello di studiare la genomica e l'evoluzione dei microrganismi. Assieme a colleghi europei con cui abbiamo collaborato in altri progetti, stiamo cercando di realizzare un network europeo per lo studio dell'evoluzione e della variazione di Covid-19, anzi lo facciamo bene a chiamare SARS-CoV-2, perché in realtà sempre più stiamo realizzando che questo virus è la SARS. E questo lo vogliamo fare per capire, per esempio, come mai in Italia questo virus ha un tasso di letalità così diverso fra la Lombardia e la Toscana. Probabilmente non è un ceppo solo, abbiamo più ceppi. Capire quale differenza è fra questi ceppi, associarle a diversi tassi di letalità e decorso della malattia, è cruciale per intervenire in modo intelligente per fermare o bloccare questa epidemia. C'è un'ultima cosa che vi voglio ricordare. Troppo a lungo ci siamo scordati dell'ecologia microbica e della virologia. Non potremo più farlo. Dobbiamo anche considerare che questo virus ha dei reservoir animali in natura. Noi, se vogliamo bloccare la possibilità che questa epidemia si ripeta ogni anno, ogni inverno, più volte l'anno, dobbiamo individuarli, comprenderli e monitorarli. Da ora in poi dobbiamo settare un sistema di allerta transnazionale a livello europeo che ci tenga tutti sicuri. Perché sviluppare nuovi farmaci semplicemente non basterà. Il virus si adatterà a questi nuovi farmaci, diventerà resistenze. D'ora in poi, invece di inseguirlo, dobbiamo essere un passo più avanti a lui. D'ora in poi, invece di inseguirlo, dobbiamo essere un passo più avanti a lui. D'ora in poi, invece di inseguirlo, dobbiamo essere un passo più avanti a lui. Grazie. Grazie.